sul buco del piercing questa cosa la lascio nel video dunisiani benvenuti va bene se la lascio chiara va bene non ho capito quello che ha detto ma facciamo finta che va bene allora dunisiani benvenuti in questa nuova art venite immediatamente qua davanti a me allora quel bastone lo togli dalla mano perché non mi minacci con quel bastone prima di tutto e anche lascia bravi allora cosa stanno facendo io ti minaccio allora chiara girati dammi il bastone girati oh dio girati forza forza perfetto madonna dammi frustare sei fortunata guarda sei fortunata angelo se non stai fermo angelo sto fermo si sente nel video allora dicevamo chiara la tua punizione è stata molto dura perché siamo in hardcore e quindi qua possiamo morire quindi stiamo assolutamente attenti ho buttato tutti gli undici gli stick che mi servono in realtà quindi assolutamente no grazie mine del ferro che avevo preso io nello scorso episodio perché questo è esattamente lo scorso episodio allora voi adesso prendete un po' di alberi vedete un po' cosa c'è qua in giro anzi venite con me venite con me venite state zitti no scherzo allora cosa dobbiamo esplorare qua in giro prima di tutto chi è stato a fare questo buco non si sa vabbè saranno stati i creeper della notte della scorsa volta allora cos'è che c'è c'era c'era quello creeper si c'è guarda chiara la scorsa volta non hai idea c'erano stati scheletri creeper angelo che mi sta venendo addosso in questo momento c'è stato di tutto quindi è stata una scioccaggine assurda è il linguaggio esatto ma voi mi raccomando ricordatevi le cose allora per oggi c'è una sfida una sfida molto importante che dobbiamo fare oltre che uccidere questo maiale perché ovviamente ci serve cibo eh raga ci serve cibo non è che possiamo non è che possiamo risparmiare i nini esatto poveri nini che sarebbero maialini e beh tu sei molto brava a parlare allora però allora qua in giro è questo un giro di ricognizione per vedere appunto cosa troviamo come il nostro paesaggio qua e poi dopo tipo i primi cinque minuti che io non ho avviato il timer come al mio solito dopo tutto cos'è che succede cos'era cos'era era il fatto che non volevo uccidermi no scherzi ma mai farlo non farlo assolutamente allora cosa sto dicendo allora qua in giro devo dire che il paesaggio è molto carino qua ci possiamo costruire delle cose Angelo cosa hai fatto no perché calma sulle mucche perché 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 io devo avercelo come amico no no non devi uccidere le mucche ed ammazzarti però siamo in hardcore guarda che se muori ti giuro non puoi più partecipare al video cioè quindi è mortale chiara l'ho appena detto muore no no vabbè non perdete era un cartino cercate di non perdere vita perché io l'avevo ammazzata sì esatto ti ammazza allora quindi direi che è arrivato il tempo adesso la magia della potenza ci darà la notte e ci ci bloccherà la notte per tutto il video vai magia della potenza magia della potenza vai è la magia della potenza tu saresti la magia che tu sei la maga che può far venire la notte e che può bloccarla no oh bene così allora dunisiani bellissimi simpaticissimi stavo leggermente incasinandomi per tre secondi perché qua è un casino però praticamente un gran casino allora spaccate di fianco a me e uccidete sti zombie perché stanno dando un fastidio che porca miseria dobbiamo sopravvivere la notte per questo video sarà tutta notte tutta quanta notte angelo entra entra dentro angelo angelo entrate 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 chiudetevi dentro chiudetevi dentro no 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 state bene state bene si ci spavano sono in testa praticamente eh lo so madonna è un casino allora questa notte è veramente un casino è difficilissima angelo tu hai recuperato vita hai recuperato parla bene però mannaggia a te se no ti ucciso ma cosa sta dicendo stavo morendo stavo morendo stavi eh lo so ho visto cioè porca miseria stavi madonna è per quello che dicevo dobbiamo stare attenti dobbiamo stare cauti allora infatti se no moriamo male da qua raga dobbiamo uscire per foccia non è che possiamo stare qua quindi voi state dentro state dentro non uscite devo uccidere io se no qua succede tutto un casino voi non uscite perché è pieno di cose schifose dobbiamo ritornare prima di tutto all'accampamento nostro dove eravamo prima quindi ok allora qua non c'è più niente vedo ok va bene no però non sto più non sto vedendo la night vision ma come non so va bene non ne ho idea si è tutto baggato eh beh ma non è la luminosità allora si ok ah è la luminosità ma sei un genio ah ti ti voglio bene ah si eh cos'è che stai dicendo shift chi è che per terra ha sempre ragione io vabbè si molto bravo comunque adesso finalmente che abbiamo la night vision per fortuna dobbiamo possiamo ritornare possiamo giocare bene a minecraft oh che bello non ci posso credere stiamo attenti agli scheletri venite venite però aiuto dobbiamo dobbiamo sopravvivere la notte stiamo attenti eh perché praticamente se qua non sopravviviamo la notte moriamo e moriamo per sempre due niziani perché questo è un albocor se moriamo addio addio serie dove siete mi dovete siete qua perfetto state bene stiamo attenti tranquilli non agitiamoci troppo anche voi due niziani da casa cercate di mantenere l'ansia perché posso immaginare che qua ci sia un'ansia generale pazzesca veramente troppa ok bene bene madonna dov'è che stavi dicendo ah è qua bene bene perfetto allora prendiamo tutto quanto prima di tutto cuociamo le cose che abbiamo tipo io qua ho della carne che cuocio e non ho più il carbone porca miseria vabbè usiamo il legno voi avete preso del legno giusto cosa si dice vabbè ma infatti ma non si capisce niente no non si capisce porca miseria che bella che youtuber mamma mia siamo proprio che bravi tutti quanti ci guarderanno allora si angelo si è capito di nuovo tutto soprattutto quando borbotti e perdi la fiducia in te stesso mamma mia è pazzesco è tutto rotto si poverino fa pure pena se guardate vabbè bravo no dai allora mi sento troppo cattivo ora mi vado a piangere anch'io perché sono stato cattivo no tenis tu puoi piangere ok va bene se puoi piangere vi distribuisco il cibo a vicenda perché che buono il cibo no non fare per maloso e non fare io dai chiara non si fa che cattiva no però è giusto un pochino è giusto perché angelo fa un pochino a buona volta vabbè vabbè dai vieni su vieni a giocare con noi dai so che volevi questa vieni a giocare dai lo so lo so che vuoi giocare vieni con noi vai bravo bravo dai lo so che chiamo cugini basta no smettila questa cosa sennò poi dopo ci ammazza tipo dico ah mio mio sei cugini no non siamo cugini no non sono cugini e poi tutto così tipo gli hater i miei hater ah ecco i cugini che registrano insieme immaginate vabbè ma io sono molto più di cugini loro no dai dai allora guarda a casa tua c'è tuo zio volevo dire mio zio dai angelo fai schifo hai un creeper dietro denis hai tu il creeper dietro stiamo attenti è tu il creeper dietro indietro indietro nel fortino nel fortino nel fortino non è possibile vieni no 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 angelo no oh mio dio cos'è che hai detto niente è stata una cosa brutta angelo se non è vero sarà meglio sarà meglio bravo se non hai detto niente sei stato bravo allora io ho paura dobbiamo uscire però da questo da questa parte quindi andiamocene via proprio via 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 venite seguitemi no 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 c'è il creeper angelo angelo attento veloci allora dovete stare stiamo vicini però se vedete tipo che dei creeper ci sono davanti sto parlando molto bene sta state dietro di chiara tu sei pazza tu sei proprio pazza ma vuoi morirci domanda no ma non l'ho fatta vuoi suicidarti da adesso eh no dimmelo sei caduta sono caduta brava cadisci di nuovo allora no scherzo italiano maiale maiale però sono caduto anch'io mannaggia a me mannaggia a me stiamo attenti esatto bravi prendiamo tutto questo maialone però questa sfida sta essendo veramente abbastanza semplice cioè è un gioco da ragazzoni ma insomma prima sono rimasto a due cuori però questo è anche vero eh questo è vero eh quando eh scusa cos'è che hai detto no no non ho detto niente tranquillo angelo parla e poi aiuta no 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 angelo non ha capito come si fanno i video assolutamente no chiara ha capito benissimo io ho capito perché cioè se però mi viene da dire c'è una cosa che non posso dire lo gioco non la dici allora allora non la dici direttamente non parti con allora se non ti difendere di solo dei miei scusa hai ragione parlerò bene da ora in poi angelo bravo c'è un creeper sotto va bene allora dai andiamocene prima che il creeper ci uccida forza io vi uccido prima o poi smettila andiamo basta angelo anche perché non si può dire allora no 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 direi di no non so sei volgare sei una brutta persona molto volgare ma ti pare che nel video di decimiscula vabbè ma ehi eh eh uccidiamo questi schifo ehi stiamo distanti se dobbiamo uccidere se vedete che mi metto davanti non venite a rompere le palle qua ci sono i zombie eh giusto giustamente no giusto giustamente allora voi siccome state domanda male aiuto zombie creeper ho un cuore raga se mi toccano sono morto no 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 angelo vai a difenderti veloce vai via proteggiti c'è un creeper c'è uno scheletro angelo vattene via vattene via vattene in una caverna non uscire da là andatevene entrambi entrambi oh porca miseria beh insomma direi che Duniziani è durata molto questa perché non sono vabbè in teoria dovrei essere in vi faccio vedere game mode spectator bene Duniziani datemi la night vision immediatamente ok perfetto stiamo morendo tp chakira ok perfetto aiuto vabbè giustamente chi è che manca beh insomma chi è che può mancare se non angelo perfetto siamo morti tutti e non solo io Duniziani questa serie ovviamente non potrà continuare più perché geni come siamo abbiamo fatto la sfida più complicata dell'universo abbiamo giocato in hardcore di notte è stato divertente però devo dire no voi che sa cosa dite Duniziani eh sì soprattutto con angelo che non si sente niente di quello che dice il suo microfono è molto buono ebbè è un microfono che costa guardate 3.000 euro proprio sì sì l'ha comprato dove dove l'hai comprato no 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 l'ha comprato in un negozio no dove l'era tutta roparotta no tutta roparotta ahhh che schifo che schifo guardalo pure tutto sotto tutto buggato con le cose no vabbè basta io con questa perla vi lascio Duniziani è stato bello fare questo video non bello parlare con angelo e noi ci vediamo al prossimo video ciao scherzo vi voglio bene amici ciao 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 ciao